Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, un piccolo saluto da parte mia e di Mario, poi lasciamo la parola ai nostri ospiti. Personalmente sono molto contenta di vedere che c'è sempre tanta gente, sempre di più mi viene da dire. Il 28 di dicembre in piene feste natalizie, abbiamo fatto uno di questi incontri e io personalmente qualche timore che non ci fosse tanto pubblico lo avevo perché il tema non era propriamente a tema natalizio e ci sono arrivate quasi 100 persone e questo ci fa piacere come organizzatori, come curatori, ma forse conferma anche un pochino l'idea che avevamo, che c'è bisogno di spazi di dialogo su questo tema tanto delicato e un po' difficile da trattare. Quindi grazie perché comunque non è scontato che si abbia voglia di aprirsi su una tematica di questo tipo. Questo è un incontro di questo ciclo, un incontro al mese con diversi esperti che affrontano il tema da diversi punti di vista e rientra in un progetto che si chiama Da Vivi, il miracolo della finitezza che è fatto di tanti percorsi diversi, un laboratorio teatrale di cui adesso dirà qualcosa Mario Biagini, spettacoli, stasera ad esempio ce n'è uno che vi invito a vedere, anche se forse è sold out, ma questo lo potete verificare con la biglietteria. Abbiamo dei gruppi di pensiero, di lavoro, di professionisti che si riuniscono, filosofi, antropologi, medici che si riuniscono lì un po' a porte chiuse per affrontare la tematica da un punto di vista diciamo professionale e cosa dimentico, ma più o meno questi sono i percorsi che abbiamo messo in campo. Dico ancora una parola semplicemente per presentare i nostri ospiti, sono molto contenta che oggi si affronti un tema dal punto di vista della tanatologia, che era una materia che io non sapevo neanche che esistesse, mi sono accorta che esiste quando in piena pandemia Radio 3 ha fatto una trasmissione bellissima, forse alcuni di voi l'hanno ascoltata, si chiamava La Cura e è stata una delle esperienze, dei punti di riferimento a mio parere più utili proprio da servizio pubblico a cui io personalmente mi sono appigliata in qualche modo, ho trovato un riferimento in un momento in cui comunque venivano fuori tante domande, c'era bisogno di avere qualche angolo di riflessione e Radio 3 in questa è stata bravissima e lì spesso intervenivano i tanatologi, quindi dal mio punto di vista era importante, visto che tutta l'idea del progetto è quella di fornire qualche strumento di ragionamento e qualche bussola per orientarci in questo territorio così scivoloso e spaventoso più che pericoloso, quindi insomma l'idea di invitare un tanatologo era per noi importante. Quindi presento brevemente, per non sbagliare, Davide Sisto, tanatologo e filosofo, insegna presso l'Università di Torino dove tiene corsi di filosofia ed etica della cura e laboratori di culture cyborg e realtà aumentata. Collabora altresì con l'Università di Trieste e insegna il Master Death Studies and the End of Life all'Università di Padova. Si occupa da un punto di vista filosofico di tecnologie digitali, realtà virtuale e cultura cyborg, concentrandosi in particolare sulle metamorfosi tecnologiche della morte, della memoria e dell'immortalità. Quindi tanatologia e anche morte dal punto di vista del territorio digitale. Poi insieme a noi abbiamo, e sono molto molto contenta che abbia trovato il tempo di essere con noi, Andrea Vannucci, direttore sanitario della Fondazione File, questo incontro è realizzato in collaborazione con File, Fondazione Italiana di Leniterapia, docente a contratto di programmazione, organizzazione e gestione dell'azienda sanitaria e già direttore dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana. Ho detto tutto, mi sembra, passo la parola a Mario e grazie di essere qua. Buonasera, grazie Elisa, grazie dottor Vannucci, grazie signor Sisto. Il dottor Vannucci, per la presenza del dottor Vannucci è importante anche per un altro motivo, perché anni fa è stato tra i protagonisti di una esperienza che vorremmo rinnovare riadattandola ai temi di cui si sta trattando, che fu un documento firmato tra il comune di Sesto e quello che a quel tempo era il centro oncologico fiorentino, un patto d'ospitalità in cui queste due istituzioni si impegnavano a un certo modo di trattare i pazienti del centro oncologico fiorentino. Poi l'esperienza del CFO fu interrotta, adesso non esiste più, ma questo documento, che era nato da un'idea della dottoressa Marcella Agostinelli che è qui presente tra di noi, si nasconde e che è tra i consulenti di questo progetto insieme al dottor Carlo Biagini, che è anche lui qui presente, questo documento per noi è importante e l'abbiamo proposto sia all'amministrazione comunale che lo stiamo proponendo a diverse istituzioni sanitarie pratesi, per cercare di lasciare con questo progetto anche un documento operativo che impegni l'ospedale Santo Stefano, la società della salute, i servizi di hospice, forse le RSA, a creare dei codici ideontologici che in fondo regolarizzino e applichino la legislazione già esistente che è bellissima e molto avanzata in Italia per quel che riguarda le cure palliative, la relazione di cura tra medico e paziente e questo è un impegno che stiamo portando avanti appunto soprattutto con l'aiuto e l'esperienza della dottoressa Agostinelli. Sono anche felice che si parli di social perché questo progetto ha anche un aspetto virtuale, esiste un gruppo Facebook che si chiama con lo stesso nome del progetto da Vivi, il miracolo della finitezza e una delle questioni che sono apparse lì tra le discussioni che appaiono è la seguente, forse anche voi avete la stessa esperienza, tra i miei cosiddetti amici Facebook ce ne sono molti che ormai sono morti e io non so mai che fare perché quando invito persone a qualcosa pare sempre il nome della persona già morta, che faccio? Gli mando un invito quando è il suo compleanno, che faccio? Gli faccio gli auguri sulla sua pagina? Lo elimino tra la lista dei miei cosiddetti amici? Tra l'altro questi che sono morti spesso erano davvero amici, non erano solamente amici su Facebook. Allora forse, e vedo che molte persone in questa discussione dicono no, io non cancello nessuno, anche quando sono arrivato al limite dei 5.000 tolgo quelli che non conosco o quelli che non mi stanno simpatici ma i morti li lascio, per cui rimangono lì come delle specie di piccoli altarini con una candelina elettrica accesa senza fiori freschi, però è una questione anche quella che ci tocca in maniera forse banale ma quotidiana. Grazie mille, noi rinizieremo il 3 e il 4, sabato e domenica, con questo seminario teatrale aperto a tutti voi e tutte voi. Sabato inizierà, mi sembra, alle 14 e finisce alle 18, il che non vuol dire che siete obbligati a stare lì quattro ore, potete anche solo passare per fare un saluto per vedere che razza di animali si ritrovano lì. Ci sono persone di tutte le età, è una cosa piuttosto rilassata, non c'è bisogno di nessuna esperienza teatrale o musicale e a me come professionista fa molto piacere trovare gente che non è del mio mestiere ma che ha voglia di creare degli spazi di condivisione e perché no di creazione che secondo me hanno una bellezza speciale e per questo, per offrirci questa possibilità, questo spazio e questi tempi ringrazio molto tutto il personale del Teatro Metastasio che è non solo competente ma anche gentile ed adorabile e il direttore artistico che ha accettato questa sfida un po' pazzerella. Grazie mille, buona interazione con questi due signori. Ringrazio in coda anche la Fondazione Casa di Risparmio di Parato perché ha sostenuto dall'inizio il progetto insomma come dico questa bella forse idea non andava da nessuna parte senza un po' di ossigeno. Grazie. Grazie. Buonasera. Allora buonasera, grazie dell'invito naturalmente. Sono legato a molte delle persone che stanno portando avanti questa bella iniziativa ma non è la ragione per cui sono qui perché i legami contano ma fino a un certo punto ma è proprio per interesse professionale. Io sono un medico, in questo momento mi sto occupando dell'organizzazione di un gruppo di sanitari che fanno prevalentemente cure palliative domiciliari a Firenze ma anche a Prato in collaborazione con la rete di cure palliative dell'azienda sanitaria Toscana Centro. Non sono uno specialista in cure palliative, se mai ho una specializzazione, la mia specializzazione sono le organizzazioni. Cioè creare i contesti nei quali le persone riescono a lavorare, a stare insieme e a tirare fuori il meglio per le persone che curano e anche per il modo in cui possono stare insieme. Perché il bilanciamento, soprattutto in settori così difficili dove si percorrono campi e situazioni molto sensibili e molto toccanti c'è bisogno di un grandissimo equilibrio anche di solidità dei curanti. E questo non è una cosa, non sono attitudini personali ma sono delle caratteristiche che si devono coltivare, sviluppare, mantenere e via dicendo. E poi il tema di stasera, perché il tema di stasera può sembrare qualcosa di proiettato nel futuro ma vi assicuro che è già qualcosa di molto presente anche nel mondo delle cure palliative. Ed è molto semplice da capire perché nelle cure palliative c'è un elemento di centralità. Si parla spesso di centralità dei pazienti, centralità delle persone. È un falso obiettivo, è sbagliato. La centralità è della relazione. Perché la relazione mi prende tutte le componenti che servono in quel momento. E avere ben chiaro che cosa vuol dire la centralità della relazione vuol dire studiare tutti i mezzi che privilegiano, stimolano una buona comunicazione che è l'elemento fondante per avere una buona relazione. Relazione nel nostro, intendo dire relazione di cura, ma relazione di cura con la parola cura, il concetto di cura veramente è in senso molto esteso. Perché quando si interviene in situazioni personali, familiari, amicali nel quale aleggia questa tristezza che una di queste persone è alla fine del suo percorso terreno e forse dipendentemente da quelle che poi sono tutte le aspettative per il dopo e sono molto variabili da persona a persona. Insomma, aleggia questa tristezza. Ci sono dei naturali sentimenti anche di negazione, di ritardo. E su tutto questo il lavoro di chi si occupa di cure di fine vita è fortemente centrato su questo. Senza nulla togliere alle tecnicalità, alla capacità di usare certi farmaci per gestire dei sintomi che peggiorano anche molto fortemente la qualità della vita ma il cuore delle cure di fine vita sta sostanzialmente nel sapere mantenere e accrescere la relazione. E veniamo ai mezzi digitali. Cioè la rivoluzione digitale, l'avvento di strumenti digitali nel nostro campo quando ci poniamo nella condizione di cominciare a usarli che dà un'interessante, importante accelerazione per quello che riguarda i progressi della relazione. Oggi ero passata tutta la giornata al nostro master che fine fa insieme all'Università di Firenze che si intitola Cronicità e fine vita. e cure di fine vita. E tutta la giornata di oggi è stata proprio dedicata agli strumenti digitali e quando sono uscito, anticipatamente per raggiungere voi non era ancora finita, c'era una ripositiva dove c'era scritto me lo sono segnato morire in braccio a internet. Ma non detto, cioè, non come una prospettiva terribile di cui si debba paura ma come una prospettiva che è interessante. Ed è interessante questo punto che attraverso proprio l'utilizzo la comunicazione di tipo web via dicendo ci sono tutta una serie di esperienze di raccolta, di racconti di esperienze di persone delle persone, dei familiari eccetera che costituiscono un grande tesoro per quello che riguarda la cura di quella singola persona la cura di quel gruppo di persone e con l'innesto di mezzi che neanche avremmo immaginato pochi anni fa come il machine learning cioè le macchine che attraverso l'analisi dei testi l'analisi semantiche imparano quelle che sono i punti le parole ricorrenti i punti importanti eccetera e l'intelligenza artificiale ci danno tutta una serie di strumenti nuovi che rendono le nostre cure più efficaci e più mirate e quando si parla di cure personalizzate non dovete pensare sempre all'alta tecnologia ai farmaci alla genetica eccetera le cure personalizzate valgono sempre per qualunque tipo di persona e in qualunque tipo di frangente e su che cosa sono basate? sono basate proprio sulla qualità della relazione e nel nostro settore questo è chiarissimo poi ci sono altre cose probabilmente ce le racconta il nostro amico perché ci sono ormai l'uso dell'ingresso nella realtà virtuale nella realtà aumentata come momenti lenitivi invece che guardare una fotografia si può entrare in dei mondi e percorrere dei mondi e ci distraggono dalle nostre miserie quotidiane dallo stare male e via dicendo c'è ormai molte esperienze già che sono nel metaverso quindi c'è un sacco di roba ecco Whatsapp è preistoria preistoria per quello che stiamo parlando però ora basta perché c'è chi se ne intende prego innanzitutto grazie dell'invito grazie della presentazione buonasera a tutti mi fa piacere parlare stasera con un pubblico così numeroso e spero e mi auguro che poi quello che dirò quello che abbiamo anche già sentito che ha già fornito tutta una serie di indicazioni interessanti e importanti possa poi permetterci di dialogare alla fine appunto delle cose che vi dirò come è venuto nella presentazione questo è un preambolo importante è la cornice all'interno della quale ci muoveremo appunto io sono un tanatologo che a volte è anche una definizione che può incuriosire che appunto può risultare anche buffa nel senso io sono diciamola meglio io ho una formazione filosofica insegno filosofia all'università però mi sono poi specializzato in questo ambito per cui lavoro anche al di fuori dell'università in vari campi come tanatologo chi è il tanatologo? Tanatologo la tanatologia è una parola ovviamente che deriva dal greco che unisce tanatos e logos e possiamo dire che è il discorso sulla morte e la tanatologia di fatto risale è nata alla fine del settecento con una funzione molto specifica e molto lontana rispetto al modo in cui si è sviluppata dopo è nata come una disciplina in ambito medico che serviva fondamentalmente ad appureare che la persona era realmente morta eravamo in epoche in cui ovviamente i discorsi terapeutici e le cure non avevano ovviamente il livello che hanno raggiunto oggi e uno dei timori classici molto diffusi tra le popolazioni era quello di essere seppelliti vivi che oggi fa sorridere questa cosa però di fatto all'epoca era una enorme paura che appunto si stabilisse la morte di una persona che di fatto non lo era e quindi la tanatologia le prime volte che si è utilizzato quella parola nasce all'interno di pubblicazioni e di riferimenti che appunto sono specializzati su questo punto qui nel corso del novecento soprattutto nel corso del novecento la tanatologia esce potremmo dire dal campo prettamente medico scientifico e incomincia a svilupparsi a riguardare il campo un campo diciamo l'ambito umanistico incomincia a coinvolgere l'antropologia la sociologia la filosofia in parte anche la psicologia perché ci si sposta diciamo da questo campo più prettamente medico con una funzione molto particolare molto specifica e si comincia a diffondere altrove perché e questo lo sentiamo continuamente ed è anche forse una delle ragioni per cui siamo così numerosi qui presenti e per cui oggi c'è molto desiderio di parlare di morte perché il novecento soprattutto dalla seconda metà in poi ma anche già prima c'erano dei prodromi il grande secolo della rimozione della morte del tabù della morte diciamo che una cosa che gli studiosi ripetono costantemente è che nel novecento c'è proprio un cambiamento radicale del modo di percepire il rapporto tra la vita e la morte incominciamo a vivere come se la morte non ci fosse le ragioni di questo tipo di comportamento sono molteplici poi una cosa a cui io tengo quando faccio questo discorso è che anche questo tipo di affermazione va sempre molto contestualizzata perché ci sono territori anche all'interno dell'occidente ci sono territori in cui questa rimozione è meno sentita rispetto ad altri ci sono delle differenze tra le metropoli e i piccoli centri quindi anche il discorso generale sulla rimozione sul tabù della morte è una questione un po' delicata e un po' complicata però diciamo visto che poi io intendo soffermarmi sul rapporto con le tecnologie diamo per buono il fatto che in linea generale siamo consapevoli che abbiamo un grande dal novecento abbiamo sviluppato un grande problema con la nostra mortalità e con la mortalità delle persone amate per dare delle motivazioni e ripeto si potrebbe andare avanti a parlare per ore di questo tema le grandi motivazioni di questa rimozione sono diverse innanzitutto i progressi della medicina e della scienza che hanno fatto sì che ci sia un incredibile aumento della durata della vita delle persone nel novecento si comincia a vivere sempre di più si calcola che fino al fine ottocento la durata media delle persone era sui 30 ai 40 anni di vita poi ovviamente c'era chi andava oltre quell'età però l'età media era quella oggi noi siamo arrivati alla soglia si dice che generalmente in un paese occidentale si può arrivare a 85 anni l'età media della vita è 85 e si dice che se seguiremo questo itere di costante miglioramento delle condizioni delle cure e del modo di affrontare le malattie potremmo raggiungere tra qualche decennio una durata media della vita di 100 120 anni è ovvio che già questo fa sì che incominciamo a vivere un lungo periodo di vita rispetto a dei nostri antenati che vedevano la morte quotidianamente perché si viveva molto poco anche si costruiva un percorso di vita particolarmente ridotto perché se una persona se ci ragioniamo ha una media di vita di 30 40 anni ovviamente è una costruzione della propria esistenza molto differente rispetto a quella che noi costruiamo già oggi si è cominciata a ospedalizzare la morte e ospedalizzare la malattia una cosa che gli storici per esempio ripetono Philippe Ariè uno dei grandi storici che si è occupato dei cambiamenti della morte nel corso dei secoli evidenzia che almeno fino alla fine dell'ottocento in buona parte dell'occidente si moriva in casa circondati dalle persone care circondate anche dalla comunità la morte era un fatto collettivo nel corso del novecento abbiamo cominciato ad allontanare la morte dai luoghi della nostra vita quotidiana e si muore appunto generalmente in ospedale tanto che oggi c'è una discussione un dibattito sul cercare di riportare sempre di più i morenti nel proprio contesto familiare un contesto familiare anche che metta proprio agio la persona appunto che sta concludendo la propria vita e i propri cari e questo è un altro fattore significativo che ha allontanato la morte dalla quotidianità nel secondo dopoguerra ovviamente dopo due guerre mondiali diciamo anche il grande boom economico lo sviluppo di tutta una serie di possibilità hanno spinto le persone dopo quegli eventi così dolorosi drammatici che hanno determinato un numero terrificante di morti anche questo è un altro elemento che ha cercato di allontanare la morte dalla quotidianità e poi l'altro fattore diciamo che questi che vi sto indicando sono di solito i fattori principali che sono stati che vengono indicati poi ci sono tanti altri fattori che si uniscono l'ultimo grande fattore che ha allontanato la morte dalla vita è lo sviluppo di una serie di economie di stampo capitalistico e nello liberale basate fondamentalmente sulla performatività sulla forza dell'individuo sul fatto di essere sempre iperattivi forti io faccio spesso l'esempio per dare questa immagine della pubblicità dell'uomo che non deve chiedere mai cioè una persona che deve essere sempre attiva lavorativa performante la morte e la malattia sono due eventi che ci riportano fondamentalmente alla nostra fragilità costitutiva e di conseguenza per un certo tipo di economia sono due eventi che devono essere messi da parte perché tendono a ridimensionare quella performatività che oggi addirittura ci porta a chiederci se dobbiamo togliere ore di sonno per lavorare sempre di più perché di fatto abbiamo costruito delle società basate su questo lavoro che in qualche modo ci deve soffocare costantemente in cui noi dobbiamo fondamentalmente mostrarci sempre iperattivi e sempre vincenti questi fattori che sono stati analizzati nel corso del novecento da tantissimi autori Norbert Elias la solitudine del morente ci sono tanti autori che ne hanno messo in luce questo aspetto hanno creato una società che ha sviluppato enormi difficoltà con la propria morte con la morte dei propri cari innanzitutto un miglioramento costante della nostra vita da un certo punto di vista anche per fortuna ci ha spinto ci ha portato in una condizione per cui noi non siamo abituati fondamentalmente a vedere dei cadaveri a vedere dei morti abbiamo cominciato a vivere un mondo rispetto ai secoli passati in cui questo non capita nel quotidiano per fortuna rispetto ad altre parti del mondo in cui invece purtroppo le morti fanno parte della quotidianità e in questo contesto abbiamo in un certo qual modo sviluppato un senso proprio di fastidio nei confronti della morte un sociologo inglese Jeffrey Gorer ha parlato secondo me in maniera molto efficace negli anni 60 di pornografia della morte dicendo che la morte di fatto ha sostituito il sesso come il grande tabù una cosa classica che capita nella vita di tutti i giorni che se ci troviamo in una situazione conviviale in un pranzo tra amici tra parenti difficilmente si comincia a parlare di morte appena se qualcuno ne parla c'è subito il parente che dice vabbè ma è un discorso triste oppure siamo arrivati a un punto che una persona molto anziana si prova a dire ai propri parenti ma starei pensando al tipo di bar a come organizzare il mio funerale i parenti immediatamente gli dicono ma cosa stai dicendo ma non sono pensieri da fare e si toglie questo discorso i tanatologi che hanno cominciato appunto la tanatologia si è sviluppata perché si sono emersi proprio le difficoltà diciamo le patologie di natura emotiva e psicologica legate a questo nostro modo di vivere facendo finta che la morte non ci sia si è cominciato a e a tutt'oggi viviamo ancora in una situazione del genere a non accettare l'arrivo della morte in nessun tipo di situazione siamo ormai anch'io collaboro spesso col mondo medico è una cosa che mi viene spesso ripetuta in ambito medico e pazienti che hanno oltre i 90 anni e che è normale che stiano portando a termine la loro vita che si ritrovano dei parenti che non vogliono tenerli a tutti i costi in vita ogni giorno sembra essere un giorno guadagnato con enormi sofferenze per le persone che fondamentalmente stanno morendo ma anche per gli stessi parenti che in qualche modo non hanno elaborato il fatto che quel rapporto prima o poi deve terminare perché funziona così la nostra vita il lutto il lutto è diventato un fenomeno sempre più privato si è passato da una condizione collettiva relazionale al fatto di viverci il lutto individualmente almeno in occidente con situazioni anche molto drammatiche nel senso che per esempio nel mondo lavorativo ho capito spesso che una persona che ha patito un lutto si ritrova ad avere non più di 3-4 giorni di permesso può andare al funerale del proprio caro e poi di nuovo ecco bisogna essere col sorriso sulle labbra attivi il famoso the show must go on e tutto questo ovviamente quando un lutto è particolarmente sentito e drammatico ci si pone sul viso il sorriso di circostanza lo spettacolo deve andare avanti ma quel lutto scava al proprio interno e può portare ad enormi a gravissime forme di depressione proprio in questi giorni ne parlavo con dei colleghi negli Stati Uniti il paese diciamo di questo tipo di capitalismo smodato oggi vivono ormai da un po' di tempo vivono questo problema gigantesco delle persone che vivono per strada degli homeless uno dei fenomeni più drammatici che stanno vivendo gli Stati Uniti e studi diversi studi hanno evidenziato che tante persone che finiscono a vivere per strada lo fanno dopo che hanno patito un lutto perché fondamentalmente il lutto rappresenta un lutto poi da persone isolate fondamentalmente senza un contesto che le aiuti ad affrontare questa perdita è il colpo finale che porta le persone a perdere tutto e il lutto è una delle ragioni pare una delle principali ragioni che spingono poi le persone a ritrovarsi per strada a consumare quelle sostanze stupefacenti che tendono fondamentalmente a sballare a rintontire come il fentanyl tutto questo discorso fa sì che nell'ambito tanatologico oggi ci sono tante figure professionali che cercano di mettere un argine alle conseguenze negative della rimozione e all'interno di questo contesto e qui entriamo un po' nel tema centrale che vi volevo proporre le tecnologie digitali hanno in qualche modo hanno intercettato questo problema involontariamente da un certo punto di vista non ne ha voluto e lo hanno intercettato in qualche modo portandolo alla luce io ho cominciato a occuparmi del rapporto delle tecnologie digitali con la morte con il lutto e via dicendo da un episodio che mi è capitato personalmente questo è del 2014 io mi occupo della cosiddetta morte digitale della digital death in inglese da una decina d'anni nel 2014 a novembre mi ero appena svegliato accendo il mio smartphone e ricevo una notifica da facebook che mi invita a fare gli auguri di compleanno a un amico che era morto tre mesi prima ai tempi di questa cosa non se ne parlava tanto io mi ricordo che mi aveva fatto particolare effetto perché stavo pensando appunto a come organizzare la mia giornata lavorativa e il telefono ti dice di fare gli auguri di compleanno a una persona a cui tenevi che era morta allora mi è venuto così d'impulso di andare sulla sua pagina facebook e anche sulla sua pagina instagram riguardare le immagini fotografiche rileggere un po' di post e da lì mi è venuto proprio il pensiero di quanto questa cosa da un certo punto di vista fosse potente perché di fatto ti riportava di fronte a una vita vissuta perché comunque quei profili erano pieni di immagini fotografiche di pensieri esposti pubblicamente anche di video quindi si sentiva si vedeva la persona in movimento che parlava allora ho cominciato a occuparmene e questo fenomeno si è diffuso questo tipo di situazioni si è diffuso a tal punto che mentre noi oggi appunto viviamo ancora una fase di rimozione sociale e culturale della morte non vogliamo avere a che fare non vogliamo vedere i morti vogliamo tenerli più distanti possibile da noi stessi poi ci colleghiamo a facebook che tutt'oggi per quanto poco usato dai ragazzi più giovani ma è tutt'oggi il social media con un numero maggiore di iscritti circa 3 miliardi abbiamo circa 50 milioni di profili di utenti deceduti addirittura c'era qualcuno che calcolava io non so questa cifra quanto possa essere precisa che ogni giorno muoiono all'incirca 30 mila utenti di facebook forse una cifra un po' secondo me è statisticamente improbabile però la cifra quella che vi dicevo dei 50 milioni è assodata tanto che c'è uno studio di Oxford dell'università di Oxford che ha calcolato sulla base ipoteticamente facciamo finta che facebook ci sia ancora nel 2100 probabilmente non ci sarà più però facciamo questo gioco facciamo finta che ci sia ancora e teniamo conto del numero di possibili iscritti nel corso dei decenni in tal caso probabilmente nel 2100 si è calcolato che si andrebbe da un miliardo a 5 miliardi di profili di utenti deceduti e addirittura statisticamente si è giunti a sostenere che se facebook continuerà a esserci nel corso dei decenni nel 2070 i profili degli utenti deceduti supereranno di numero i profili degli utenti in vita questo discorso che può essere fatto teniamo conto questo è anche un dato importante perché i dati danno l'idea del fenomeno in crescita facebook esiste dal 4 febbraio 2004 sta per compiere 20 anni e si è diffuso nei paesi occidentali fuori dall'America in Italia anche tra il 2007 e il 2008 quindi comunque questo fenomeno si è sviluppato alla fine in un numero di anni abbastanza limitato una quindicina d'anni e un altro aspetto che va tenuto conto perché anche questo è significativo è che noi ormai siamo abituati a utilizzare questo strumento che in questo momento sto usando per calcolare il tempo ma siamo abituati ad avere il nostro smartphone e a fare un sacco di cose con lo smartphone ma anche lo smartphone alla fine si è diffuso tra le persone dalla seconda metà del 2007 diciamo che Steve Jobs presentava il primo modello di iPhone a inizio del 2007 quindi se teniamo conto che ci va sempre un po' di tempo per la diffusione popolare di questi strumenti dal 2008 più o meno abbiamo cominciato ad utilizzare questi strumenti che hanno cambiato profondamente la nostra vita perché di fatto fanno sì che noi siamo presenti o in molti luoghi incontemporanei a prescindere dal luogo fisico in cui ci troviamo noi siamo esseri umani i primi esseri umani che per dire quando camminiamo per le vie di una città non siamo soltanto con la persona con cui stiamo camminando ma siamo contemporaneamente nei social media che frequentiamo su Whatsapp su Messenger continuiamo a lavorare grazie per colpa più che grazie per colpa della posta elettronica e via dicendo abbiamo trasformato il nostro modo di essere presenti nel mondo e accanto a Facebook che adesso fino ad ora su cui mi concentravo sono nati tanti social media che hanno sviluppato lo stesso tra virgolette problema tutti i morti che troviamo su Facebook li troviamo oggi anche su Instagram i più giovani su TikTok su Twitter su tutti questi luoghi che generalmente frequentiamo le conseguenze le conseguenze sono tante alcune curiose ma nella loro curiosità evidenziano anche intercettano mettiamola così intercettano dei comportamenti tradizionali che da sempre noi sviluppiamo con le persone che non ci sono più le cose diciamo più canoniche più classiche che evidenziano più che altro il problema di come è diventata la nostra società è il fatto di utilizzare i social media per cercare di fare gruppo di riuscire a ricreare quel tipo di gruppo che non si riesce più a creare nella dimensione offline e quindi succede che sono sempre di più pagine su Facebook del tipo genitori che hanno perso un figlio ventenne per un incidente stradale cioè pagine incentrate su uno specifico tipo di di lutto in modo tale che genitori che hanno vissuto questa terribile esperienza ritrovino persone che hanno vissuto la stessa esperienza appunto e entrino in contatto e in qualche modo cerchino di fare di fare gruppo si cerca di utilizzare fondamentalmente la pagina Facebook o comunque anche i profili Instagram adesso Instagram è molto diffuso della persona deceduta per anche lì utilizzare quel profilo da una parte come una specie di punto di contatto tra l'al di qua e l'al di là lo si vede dal fatto che le persone scrivono comunicando come se il morto potesse leggere è vero siamo in un luogo pubblico dove gli altri ci leggono e quindi uno potrebbe pensare che si scrive il messaggio al morto perché sappiamo che gli altri ci leggono e ci mettono il like però in realtà questa cosa è un pochino più complessa di così nel senso che si tende in qualche modo a trasporre nel profilo social del morto l'idea fondamentalmente che quell'insieme di parole di immagini di video in qualche modo riproduca quell'insieme riproduca il profilo l'identità della persona morta e di conseguenza quel profilo una specie di contatto tra l'al di qua e l'al di là quasi come se il morto in qualche modo leggesse quello che gli scriviamo e questo è una cosa molto diffusa e succede in continuazione lo si fa anche si scrive al morto anche per cercare come dicevo prima è un luogo pubblico sostegno e appoggio da parte delle altre persone quel sostegno e quell'appoggio che si fa fatica a trovare solitamente nella dimensione offline dove siamo degli individui sempre più separati poi sempre più schiacciati dal lavoro e sempre più fondamentalmente isolati da questa condizione condizione lavorativa che in qualche modo ci soffoca e quindi di nuovo la mediazione degli schermi in qualche modo attutisce il timore l'incapacità di esprimerci quando ci troviamo faccia a faccia e si cerca di fare gruppo in questo modo nascono tantissime pagine questo soprattutto tra i più giovani adesso noi viviamo oggi un mondo in cui per ragioni di affetto e per lavoro ci si sposta tanto nel mondo e quindi capita che tante persone debbano cambiare città o addirittura continente o paese o addirittura continente e quindi vivono nel corso della loro vita in più paesi succede spesso che quando muore una persona magari relativamente giovane gli amici o comunque i conoscenti aprono una pagina che coinvolga tutti coloro che hanno conosciuto il morto nei vari paesi del mondo e che ciascuno in qualche modo racconti degli avvenimenti che lo hanno riguardato in modo tale da creare una specie di completezza narrativa che permetta anche per esempio facciamo un caso di questo tipo dei parenti che non hanno avuto modo di vivere col proprio figlio per un certo periodo mentre all'estero di avere delle conoscenze delle informazioni che non avevano precedentemente ci sono situazioni questo poi mi serve per l'ultimo punto che dirò per la parte diciamo un po' più particolare però l'anticipo già un fatto che aveva colpito molto l'immaginario pubblico i giornali e via dicendo è una mamma della provincia di Cuneo della mia regione nel Piemonte che ha perso un figlio ventenne per un incidente in montagna lei scopre le credenziali d'accesso del suo profilo facebook il figlio non gliele aveva date ma lei le scopre probabilmente aveva una password intuibile e ha cominciato a pubblicare in prima persona come se fosse il figlio morto a comunicare quindi vediamo su quella pagina dei posti in cui il figlio quindi con l'immagine proprio del ragazzo dice si sta avvicinando il Natale mi piacerebbe festeggiarlo con voi ma non posso perché appunto sono lontano fisicamente ma vi stono vicino cioè la madre ha indossato i panni del proprio figlio e questo è un altro aspetto che poi mi permetterà su questo punto ci tornerò su dei fenomeni che riguardano sempre di più l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale però da questo punto di vista anche questi sono fenomeni che si sviluppano che creano delle problematicità infatti poi facebook ha tolto le credenziali di accesso a questa donna perché le altre persone che vedono e che hanno visto questo tipo di post sono ovviamente rimaste sconvolte perché non ti aspetti che il morto scriva ancora su facebook però questi aspetti danno bene mettono bene in luce questo bisogno di creare comunità laddove viviamo una società in cui questa comunità manca lo abbiamo visto nel corso della pandemia ci sono state diverse pagine in Italia una delle più famose si intitolava adesso mi sfuggiva il titolo mi è ritornato in mente noi denunceremo che era nata nella provincia di Bergamo nell'inizio della pandemia fine febbraio inizio marzo del 2020 ed era nata proprio per denunciare al tempo non si sapeva ancora bene quello che stava succedendo le mancanze statali di quella zona quella pagina che oggi ha raggiunto quasi 80.000 utenti è diventato un luogo che diciamo in cui sono sono entrate persone provenienti da tutta Italia che hanno cominciato a condividere immagini dei propri cari morti durante il covid magari condividendo delle registrazioni dai reparti di terapia intensiva oppure ponendo dei racconti raccontando come quelle persone sono morte anche questo è diventata questa pagina da una possibile denuncia per delle mancanze di natura statale a una specie di raccolta di ricordi di persone che sono decedute e che fondamentalmente hanno creato una specie di enciclopedia dei morti che ha generato un collante tra chi ha vissuto un'esperienza così dolorosa in maniera simile e cose di questo tipo ce ne sono appunto di svariato tipo che riguardano anche tra l'altro che riguardano anche la malattia mettiamo ancora questo e poi faccio un passaggio ulteriore che riguardano per esempio anche la malattia se le persone hanno bisogno di fare gruppo in presenza di un lutto questo sta succedendo anche con la malattia che la malattia è un altro tema che è stato fortemente tabuizzato i segni della chemioterapia una delle cose ricorrenti che viene raccontata da chi affronta un grave tumore e che magari appunto è uno scrittore o comunque ha avuto modo di scrivere dei libri è il fatto che nel momento in cui devi incominciare ad affrontare la chemioterapia o comunque una malattia molto grave di colpo diventi vieni associato a quella malattia di colpo sei il malato all'interno della società non solo hai il problema di affrontare un periodo così difficoltoso della tua vita ma ti ritrovi anche a essere identificato con quella malattia e questo ovviamente non fa altro che accrescere il dolore il dolore appunto della persona che sta affrontando questo percorso anche qui mi viene in mente un fatto personale che a me aveva molto colpito purtroppo un altro mio caro amico che ha avuto un tumore che l'ha condotto nel giro di 2-3 anni alla morte che viveva nella zona di Biella io sono di Torino e veniva a trovarci nel corso di quegli anni qualche volta a me e ad altri amici e ovviamente veniva con i segni ben evidenti della chemioterapia non aveva i capelli era molto magro ed era notevo ed era impressionante drammaticamente impressionante vedere come io sono abituato appunto ad affrontare il tema ed ero molto a mio agio ma come gli altri amici in comune non riuscivano a trascorrere una serata normale cioè facevano pesare di fatto a questo nostro comune amico quei segni visivi che non poteva nascondere che non voleva nemmeno nascondere ma anche questo è un altro fattore che intercetta la dimensione online e nel corso degli anni lo abbiamo visto anche con dei nomi pubblici importanti da Michela Murgia Gianluca Vialli Nadia Toffa c'è stato l'utilizzo dei social per cercare in qualche modo di dare visibilità a quello che noi non vogliamo vedere proprio per togliere quel tipo di situazione di dolorosa che vive la persona che appunto affronta una malattia e anche in questo caso adesso c'è un termine specifico a livello scientifico che definisce un certo tipo di mettere in luce la malattia attraverso gli schermi quella dei cancer blogger ci sono tante persone che utilizzano specie soprattutto youtube tiktok che in qualche modo cercano di mostrare e di condividere gli effetti delle cure che stanno affrontando proprio per rompere per normalizzarle in qualche modo per rompere di nuovo questo tabù ed erano le tante storie che a me avevano colpito analizzando questo fenomeno è quella di un ragazzo inglese che per diversi mesi forse addirittura se non ricordo male per anni ha condiviso tanti video in cui raccontava le varie fasi dei tentativi di cura appunto della malattia che stava affrontando aveva creato una comunità che gli dava supporto e che condivideva con lui i momenti di speranza con quelli invece di sfiducia di delusione che si alternavano a un certo momento questo ragazzo muore i genitori pubblicano sulla sua pagina di youtube un video in cui danno la notizia che è morto e danno le informazioni ma in modo molto naturale non immaginavano chissà cosa danno le informazioni dove si sarebbe svolto il funerale e al funerale si sono presentate centinaia di persone tutte quelle persone che hanno condiviso mesi e anni mediate dagli schermi con quella persona che hanno sentito l'esigenza di andare a fare un ultimo saluto nel funerale quindi ci sono state tante persone che sono andate considerando di fatto quel legame come un legame forte un legame in qualche modo meritevole di un ultimo omaggio e cose del genere ce ne sono anche sono avvenute anche in Italia anche per ragazzi molto giovani su tiktok questo per dare l'idea di come poi ci sono anche dei lati negativi e questi non vanno per carità nascosti però mi piaceva evidenziare gli aspetti positivi proprio per evidenziare come senza volerlo noi utenti della dimensione online abbiamo utilizzato anche questi strumenti per cercare di rompere un tabù questo ci porta a fare un passo oltre una delle cose che nel corso degli anni mi ha più colpito a fare questi studi è il numero di persone che dichiara di continuare a parlare con i morti con un proprio caro morto su whatsapp ci sono percentuali altissime di persone che continuano a scrivere ai propri cari su whatsapp e questa è una cosa molto curiosa perché se mantenere un contatto simbolico con il morto tramite i social media presuppone che ci sia un pubblico e quindi presuppone che quel gesto avvenga sia simbolicamente nei confronti del morto ma è anche una richiesta di fatto d'aiuto o comunque di sostegno nei confronti degli altri utenti whatsapp ovviamente è un ambiente molto privato non c'è nessuno che ci legge quindi è un collegamento è un legame prettamente con il morto anche lì occupandomi da tanto tempo di queste cose mi è capitato una volta di una studentessa di filosofia che mi aveva chiesto un appuntamento per chiedermi se era normale per me che lei aveva perso il fidanzato era morto il fidanzato 6-7 mesi prima e lei continuava a scrivergli raccontando le storie della propria vita al punto che mi aveva raccontato che quando si è laureata una volta che è stata proclamata c'è stata la proclamazione la prima cosa che gli è venuta da fare è stata quella di mandare un messaggio su whatsapp al fidanzato morto dicendo il voto che aveva preso e lei mi diceva chiaramente che non si aspettava la doppia spunta blu era consapevole che il fidanzato non avrebbe letto quel messaggio però whatsapp e questo è un altro segno dei tempi che stiamo vivendo è forse uno dei luoghi di maggiore contatto privato che abbiamo con le persone a tutti questi anni che utilizziamo whatsapp abbiamo accumulato un tale numero di messaggi scritti magari anche con dei linguaggi molto privati molto legati appunto alla persona quindi dei linguaggi specifici di questo legame immagini fotografiche video messaggi vocali è ovvio che whatsapp di conseguenza diventi un luogo da una parte estremamente delicato per elaborare il lutto perché diventa una specie di legame che è difficile fondamentalmente da recidere una cosa che si dice sempre negli studiosi appunto in ambito soprattutto antropologico raccontano che i riti funebri hanno il compito fondamentalmente per i vivi di prendere coscienza che è finito il mondo condiviso con la persona cara i resti di quella persona sono al cimitero nell'urna o appunto uno dei luoghi e prendendo coscienza tramite il funerale che la persona si trova lì si deve cominciare a vivere in un nuovo mondo in un mondo in cui quella persona non c'è più quindi una delle cose classiche che si raccontano che appunto i riti funebri ci servono per separare i due mondi il mondo con quella persona dal mondo senza quella persona certamente Whatsapp in parte anche i social media perché questo è un aspetto ovviamente delicato mettendoci di fronte questa presenza costante di immagini di dati di messaggi vocali la voce le parole scritte tutto questo insieme è ovvio che questa cosa qui può per molte persone le quelle più fragili rendere impossibile una sana elaborazione del lutto ci si può in qualche modo autoconvincere che il legame ci sia sia ancora attivo il legame sia ancora vivo perché quelle parole espresse sono vive credo che sia capitato a chiunque di chi fa uso dei social media che se capita ma è un esperimento che potete che chiunque se non ci avete mai pensato potete provare a fare se andate a rileggere una conversazione che avete tenuto anche qualche anno fa con un'altra persona avete l'impressione emotiva anche psicologica mentre la rileggete su quegli strumenti che quella conversazione sia presente cioè una delle sensazioni che le tecnologie digitali danno di più è il fatto di un tempo che non passa di un tempo che resta e quindi quello che in fondo è passato mantiene una sua presenza è ovvio che in presenza della morte questo aspetto è problematico e ad esempio nel caso però di questa studentessa e anche di tanti di quel coloro che dicono di dialogare con i morti ci può essere questa non accettazione del legame che si spezza ma c'è anche l'idea in qualche modo romantica del contatto del fatto di scrivere al morto per dare un po' sollievo a se stessi pur essendo consapevoli che il morto non ci sia più quindi ci muoviamo su due fronti su un fronte che può essere problematico per cui diventa difficile elaborare il lutto ma può anche essere un fronte diciamo narrativo che in qualche modo permetta di conservare la memoria di chi non c'è più e anche da questo punto di vista sono tante le teorie psicologiche che sostengono che scrivere ai morti faccia bene cioè una delle teorie più note è quella dei continuing bonds dei legami che continuano che invitano sono proprio teorie che invitano a continuare a dialogare con il morto attivamente scrivendogli delle lettere dandogli delle informazioni perché secondo queste teorie nella consapevolezza che il morto non le può leggere però questo fa bene alla persona che ha perso un legame il punto e qui arrivo nell'ultima parte di questo incontro è che le tecnologie vanno sempre più avanti e io fino ad ora vi ho descritto una realtà in cui i protagonisti sono i vivi di fatto e in cui si cerca di mantenere un legame in cui il morto di fatto non può rispondere non risponde estatico possiamo dire che i social media whatsapp tutto quello che noi facciamo online in qualche modo porti a termine un percorso che è cominciato con la fotografia per esempio quando è stata creata la fotografia una delle cose classiche che si diceva che la fotografia tratteneva i morti con noi c'erano studi forse non ci sono scritti che analizzano gli effetti della fotografia maggiori rispetto a quelli che ne analizzano il rapporto con la morte quando è stato inventato il fonografo ci sono dei testi anche molto buffi in cui gli umani esaltano l'invenzione del fonografo dicendo abbiamo sconfitto la morte perché tratteniamo la voce delle persone amate e poi abbiamo appunto la radio la televisione il videoregistratore tutta una serie di invenzioni che trattengono fortemente il morto ma il morto non è attivo ripete quello che ha recitato nel corso della sua vita sempre la stessa scena è una presenza fondamentalmente estremamente passiva le tecnologie però evolvono e tanti scienziati oggi si chiedono ma se utilizzassimo le tecnologie per far sì che i morti rispondessero e si mantenesse un legame attivo e questo è molto problematico io ho cominciato a occuparmi di questo e c'erano pochi casi singoli c'è una famosa puntata non so se la conoscete ma è un po' la puntata di una serie televisiva che ha dato là una puntata di Black Mirror serie televisiva distopica che immagina il futuro delle tecnologie odierne in cui c'è questa puntata che si chiama Torna da me in cui si immagina un futuro prossimo una puntata del 2011 se non ricordo male in cui si immagina in cui una donna che ha perso il compagno possa disporre di un dispositivo di uno strumento tecnologico che le permette di continuare a chat attivamente con il compagno attraverso la rielaborazione artificiale delle sue comunicazioni e addirittura può dialogarci a voce attraverso la rielaborazione delle parole registrate e si vede per esempio in questa puntata alcune scene sono molto molto forti questa donna che cammina da sola per un prato e ha gli auricolari e sta dialogando con il compagno morto quindi adesso si vede questa scena di questa donna da sola che parla con il morto e che risponde sulla base della rielaborazione artificiale dei suoi contenuti questa cosa ha ispirato dei singoli progetti una donna una scienziata russa che si chiama Eugenia Kuida nel 2013 due anni dopo se non ricordo male perde un amico un caro amico di 28 anni e anche lei ispirata da Black Mirror da questa puntata si fa consegnare migliaia di messaggi che questo amico aveva mandato su Whatsapp e ha inventato un'applicazione per iPhone che si chiama Luca che rielabora ha rielaborato tutti questi messaggi e lei e gli altri amici adesso in realtà è stata resa pubblica chiunque può scaricarla può chattare con chiamiamolo così lo spettro digitale di questo ragazzo che risponde i dialoghi riportati sui giornali sono abbastanza inquietanti perché le persone gli scrivono dove sei come stai e ci manchi e lui risponde anche voi mi mancate spero non stiate facendo troppe cose senza di me qualcuno anche gli chiede ma Dio esiste e lui dice di no perché probabilmente nel corso della sua vita aveva espresso il suo ateismo il suo nichilismo nelle comunicazioni scritte di conseguenza la rielaborazione artificiale riproduce quello che lui probabilmente avrebbe detto e in contemporanea questo un altro scienziato americano che si chiama James Vlaus scopre che suo padre ha un grave tumore che lo avrebbe portato da lì a poco a morire inizialmente decide visto che questo padre aveva scritto dei libri aveva fatto molte cose nel corso della sua vita aveva recitato teatro aveva giocava a football se non ricordo male aveva fatto diverse cose e lui da scienziato e anche giornalista dice vabbè mi faccio raccontare la storia della sua vita e poi gli scrive un libro biografico per ricordarlo allora registra i racconti della vita di questo suo padre ma registra troppo registra troppo materiale per cui avrebbe dovuto scrivere un libro da centinaia di pagine e allora decide anche lui di mettere a frutto le sue capacità scientifiche tecnologiche e ha creato quello che lui ha chiamato un dead bot un bot paterno nel senso appunto di padre con cui continua tutt'oggi a chattare il padre è morto e lui chatta con con suo padre che risponde attraverso la rielaborazione dei racconti che aveva della sua vita ma addirittura questa rielaborazione è fatta talmente bene che quest'uomo era molto ironico e allora anche lì nei servizi che hanno fatto vedere televisivi hanno fatto vedere di questo tipo di prodotto vediamo che questo padre a volte risponde al figlio dicendo che sta fumando della marijuana e il figlio dice ma come stai fumando della marijuana e allora lui dice eh ti sto prendendo in giro oppure il figlio gli chiede dove sei e lui risponde è una domanda stupida in un posto dove c'è il wifi perché se no non ti potrei rispondere quindi c'è una rielaborazione anche del taglio ironico di quest'uomo ora questa cosa tutto sommato fa effetto però si dice fino a quando sono due scienziati russi che si inventano uno russo un americano che si inventano questo tipo di cose tutto sommato non ci tocca l'anno scorso il numero due anni fa ormai nel 2022 il numero uno di Alexa ha dichiarato che Alexa con un solo minuto di registrato è in grado di imitare le voci delle persone e questo ceo di Alexa ha mostrato un video dove un bambino dialoga con la nonna morta la nonna morta interagisce con il nipote Alexa ormai ce l'abbiamo tutti nelle case voglio dire particolarmente diffuso quindi questo fa sì che non è detto che tra non molto tempo tutti noi potremmo volendo continuare a dialogare tramite Alexa con le persone che non ci sono più ed esperimenti di questo tipo ce ne sono tantissimi una cosa che aveva colpito molto l'immaginario pubblico prima della pandemia è un documentario sudcoreano che si intitola I met you in cui si vede una donna che incontra in realtà virtuale tramite visore in un ambiente ovviamente costruito in realtà virtuale la figlia di sei anni morta qualche tempo prima e questa cosa è molto impressionante perché si vede questa donna che si emoziona a rincontrare la perfetta riproduzione della figlia perché è stata presa un'altra bambina più o meno della stessa età sono stati registrati i suoi movimenti per dare un movimento verosimile alla riproduzione virtuale della bambina sono stati utilizzati le poche fotografie e i video e quindi questa mamma poi si ritrova in questo ambiente virtuale a dialogare e addirittura a toccare la figlia tramite i guanti aptici che permettono in qualche modo di avere una sensazione la sensazione del tatto dopo questo esperimento la donna e questa è una cosa importante per cercare di capire questo fenomeno questa donna ha detto che lei era molto consapevole che non stava incontrando sua figlia quindi che quella era una mera riproduzione artificiale ma dato che le capitava di sognare sua figlia mentre dormiva o spesso desiderava di avere almeno un ultimo dialogo con lei quella cosa rappresentava una specie di piccola parentesi felice che si apriva e si chiudeva nel giro della possibilità appunto che le era stata data questo secondo me è un punto importante perché una cosa di questo tipo può essere ovviamente estremamente delicata ed estremamente problematica innanzitutto Alexa e tutti quegli diciamo quelle applicazioni quelle start up che forniscono potrebbero fornire adesso a chiunque la possibilità di avere un rapporto diretto con il morto chat gpt che permette anche lì già di dialogare con i morti via dicendo ovviamente queste società non sono società benefattrici dell'umanità e cercano fondamentalmente di guadagnare su quello che è il grande dolore di chiunque cioè basato sulla perdita e questo è un punto che è ineludibile e che va sottolineato e per le persone più fragili è altrettanto ovvio che avere Alexa che ti dà la possibilità quando sei in casa di dialogare con la persona cara e allora magari sei da solo o da sola in casa in quel momento di solitudine l'accende e comincia a dialogare con il morto magari poi ti sfugge la cosa e ci rimani in qualche modo dentro sei alienato e ti ritrovi in una situazione emotiva e psicologica tale per cui non riesci più in qualche modo a separare il reale dal dal finto perché qui non è neanche una questione di reale virtuale ma di qualche cosa di finto perché è una riproduzione artificiale di una piccola porzione di identità se però la guardiamo da un altro punto di vista facciamo finta che si è capaci e si matura la capacità razionale di non attribuire a questo tipo di riproduzione artificiale una vita e quindi non dargli il volto della persona cara può essere semplicemente l'evoluzione della nostra memoria quindi un modo più vivido di ricordare le persone che non ci sono più una volta appunto si guardavano gli album delle fotografie o si riascoltava in maniera compulsiva un messaggio registrato nei film una delle cose più tipiche dei film degli anni 80 90 quando si rappresenta un lutto la situazione del lutto una delle cose più ricorrenti che succede e che di colpo scatta la segreteria telefonica in casa e si risente la voce della persona che non c'è più e questo ovviamente genera un grande shock nel dolente oggi questa cosa qui è un passaggio ulteriore potrebbe anche essere un modo per avere un ricordo più più forte un bambino che ha perso il nonno quando era piccolo potrebbe avere dei ricordi del nonno molto più più sentiti l'intercalare l'accento noi in Italia che abbiamo dei dialetti così differenti anche molto incisivi ogni paese in realtà però sentire l'accento può essere un modo per ricordare in maniera ancora più forte quella persona degli aneddoti è ovvio che è molto delicato questo passaggio e in più oggi lo si sta applicando non solo alle persone comuni ma anche alle persone famose è sempre più presente per esempio l'utilizzo degli ologrammi dei cantanti dei musicisti deceduti che vanno in tournée e le persone pagano per andare a vedere l'ologramma del morto che canta che è successo appunto in ogni ambito nel rock Freddie Mercury Michael Jackson un gruppo rock molto noto come Kiss che stanno chiudendo la loro attività musicale hanno detto che hanno già firmato dei contratti per diventare degli ologrammi perché continueranno così a suonare dal vivo sotto forma di ologramma quando non ci saranno più nel cinema c'è tutto una serie di attività c'è una cosa molto interessante molto intelligente anche per dare l'idea della complessità del fenomeno c'è un esperimento a San Francisco scolastico in cui i reduci di Auschwitz che ormai sono prossimi alla morte per ragioni di età che si sottopongono volontariamente all'idea di diventare degli ologrammi di se stessi in modo tale da continuare a raccontare le storie che hanno vissuto sotto forma di ologramma e sembrerebbe dagli esperimenti fatti a livello scolastico che le scuole liceali che si ritrovano davanti a un palco dove c'è l'ologramma di una persona che non c'è più o comunque che ha deciso di lasciare la traccia di sé in questo modo che racconta quello che ha vissuto trattiene molto di più l'attenzione perché ovviamente è uno strumento nuovo inedito che incuriosisce per cui parerebbe che ci sia un'attenzione maggiore da parte degli studenti nei confronti di questi racconti quindi diciamo che oggi con l'evoluzione delle tecnologie digitali dell'intelligenza artificiale della realtà virtuale si parte da una situazione in cui siamo circondati dai morti sui social media su whatsapp in cui in qualche modo dobbiamo districarci con questa presenza una presenza che a volte questo non l'ho accennato perché ho già messo a fuoco tanto materiale però per esempio oggi una delle cose di cui si discute di più è l'eredità digitale perché tutto questo tipo di presenze se non viene se non si predispongono delle modalità di eredità appunto di questo materiale resta online può essere utilizzato in svariati modi c'è un reato negli Stati Uniti c'è un reato specifico di appropriazione dei profili degli utenti deceduti per finalità terze quando c'è stato lo scandalo di Cambridge Analytica per condizionare le elezioni appunto le elezioni negli Stati Uniti sono stati utilizzati un sacco di profili di utenti deceduti quindi c'è anche questo problema del fatto che tutto quello che noi produciamo resta online e può essere utilizzato da terzi però al di là di questo siamo all'interno di una cornice nuova in cui i morti sono davanti a noi con questa forte presenza e già lì dobbiamo districarci lo sviluppo dell'intelligenza artificiale della realtà virtuale della realtà aumentata degli ologrammi ci sta spingendo sempre di più ad avere dei rapporti non soltanto unilaterali passivi in cui i morti sono lì presenti ma non agiscono in un mondo dove i morti potrebbero veramente dialogare ancora con noi e ovviamente questo apre degli orizzonti inediti che chiamano in causa tutta una serie di specialisti proprio per far sì che questo tipo di possibilità non sia una possibilità soltanto problematica perché è ovvio che questa cosa nelle mani delle persone più fragili è un boomerang è sicuramente un effetto disastroso perché può essere molto problematico però può anche essere proprio io non riesco a guardare soltanto il bicchiere mezzo vuoto ma secondo me si può anche guardare il bicchiere mezzo pieno può anche essere un modo per cambiare il ricordo e la memoria tenendo ancora conto e vedo che praticamente ho raggiunto sono giunto alla conclusione tenendo anche conto e questo è un aspetto curioso ma che è emblematico in fondo del rapporto con i morti che anche questo morto che continua a parlarci artificialmente in fondo è un morto che riproduce una piccolissima porzione della sua identità sappiamo che noi online possiamo esprimere un determinato lato della nostra personalità nascondendone un altro possiamo dire delle cose che magari non pensiamo e di conseguenza quindi questo tentativo di trattenere il morto con noi alla fine si trasforma nella creazione di qualche cosa di differente di qualche cosa che assomiglia al morto ma che non lo è più e se noi anche lì ci mettiamo ci ragioniamo è sempre andata così nella storia dell'umanità quando noi moriamo il morto non ha più voce in capitolo del modo in cui viene ricordato e quindi le persone ricordano chi non c'è più come preferiscono ricordarlo se hanno avuto un rapporto problematico con quella persona e non vogliono ricordare quel lato problematico lo ricorderanno come una persona splendida per evitare a sé la sofferenza di ricordi dolorosi sappiamo che quando leggiamo le biografie dei grandi personaggi storici dobbiamo prendere con le pinze quello che ci viene raccontato perché sono racconti che si basano su testimonianze su narrazioni e di conseguenza alla fine i morti restano vivi tra di noi sempre sulla base di come vogliono i vivi e anche in questo caso alla fine l'intelligenza artificiale riproduce una piccola porzione e il morto rimane sempre in fondo gestito dai vivi quindi io volevo concludere proprio con questo aspetto per evidenziare che alla fine cambiano le tecnologie cambia il mondo ci sono delle novità con cui dobbiamo scendere a patti ma alla fine il rapporto tra i vivi e i morti è sempre lo stesso da una parte ci sono i vivi che cercano di mantenere un legame con chi non c'è più e allora cercano di inventarsi ogni modo per mantenere questo legame e questo legame sarà sempre un legame imperfetto però certamente e qui chiudo il discorso e mi fermo tutto questo che vi ho raccontato intercetta la rimozione della morte il tabù della morte il lavoro della tanatologia in una maniera differente e diventa tutto questo che vi ho raccontato uno strumento un mezzo in fondo per cercare di ragionare insieme sul ruolo della morte nella vita e cercare anche di riportare la morte all'interno della nostra vita quindi può diventare un mezzo con tutte le sue imperfezioni del caso utile per cambiare le cose quindi vi ringrazio per l'attenzione consapevole della difficoltà possiamo avere una decina di minuti se qualcuno ha una domanda sintetica o un commento sobrio temporalmente intendo da 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 fare non vuole essere un'inibizione ora ci sarà un modo però noi siamo tutte persone che si stanno confrontando con il tempo capito per cui se qualcuno ha delle domande chiedo di venire qua magari si espone un po' ma al microfono per favore io vorrei fare una riflessione con lei Marcella proprio tu al microfono no dico proprio tu parli senza microfono no no ti prego perché va registrato no e io più che una domanda professore io vorrei fare una riflessione con lei magari mi aiuta a capire sobria cioè la riflessione lei veramente mi ha interessato moltissimo perché io sono molto ignorante nella materia social e quindi mi ha incuriosito però mi viene di dirle questo impegno che il vivente mette per non dimenticare chi muore chi è morto paragonato all'impegno del morente che mette nel dimenticare nel lutto amoroso di Barthes nel dimenticare chi lascia i propri cari no cioè a me è capitato di vivere questa esperienza secondo me mette chiaramente in luce quanto la vita alla fine sia ingrata perché non lo so a voi ma a me è venuta questa riflessione cioè a me questa esposizione così chiara con questo linguaggio così chiaro veramente guardi la ringrazio molto mi ha portato proprio a pensare io sono sempre più convinta che la vita a tratti sia fortemente ingrata e quindi le chiedevo cosa pensava a lei no paragonando i due impegni del morente e del vivente grazie sì diciamo che questa sua riflessione chiama in causa forse appunto un implicito importante che è l'oblio e anche l'importanza l'importanza del del dimenticare io con un collega torinese uno scrittore torinese un mio amico giochiamo da un bel po' di anni quando ci capita di essere in pubblico diciamo sempre si dà tanta importanza a ricordare proviamo a a fare degli incontri pubblici a dialogare sull'importanza molto sul valore positivo del dimenticare rispetto a ricordare proprio perché di solito si dà un valore positivo al ricordare uno negativo al dimenticare certamente ecco in un caso di questo tipo c'è una specie di soffocamento della persona che in qualche modo vuole lasciare tagliare il legame vuole in qualche modo anche lasciare potremmo dire anche far sì che poi in fondo nel mondo la morte serve anche a determinare in fondo una successione di generazione a far sì che ciascuno abbia fatto il suo e poi chi viene dopo continua e non è fondamentale nemmeno lasciare tutte queste enormi tracce di sé perché è bello che le cose vadano avanti certamente questo è un problema gigante il fatto che oggi la rete offre degli spazi tali per cui ciò che passa non passa non passa mai e questo certamente è un punto che dovrebbe anche lì farci riflettere di più su quanto sia veramente importante quanto trattenere cosa lasciare andare il senso forse la mia riflessione non è più quello che ci dovrebbe spingere a capire cosa vogliamo veramente lasciare di noi stessi e anche decidere con i nostri cari quanto il limite oltre al quale non spingerci per rimanere se anche scompariamo una cosa che a me piace dire spesso perché ci credo veramente poi entro in contraddizione perché io scrivo un sacco di libri quindi questa cosa è totalmente in contraddizione con quello che faccio però a me piace pensare di essere una parentesi che si apre con la data di nascita che si chiude con la data di morte e poi dopo non è fondamentale che io rimanga nel senso che è giusto che poi mi sostituiscano gli altri poi appunto io scrivo un sacco di libri quindi questa cosa la contraddico immediatamente però sì a questo punto questo punto grazie a lei io sì sono per dire che ora muoio qui perché casco no che mi sono occupata tutta la vita di archivi per cui di morti e li sentivo gridare quei morti da quelle carte bene dopo essere stata tutta la vita impegnata in questo quindi anche salvaguardare la memoria di chi non c'è più anche se quella cartacea ecco io su me stessa per esempio ho deciso non lascerò nulla faccio in modo che non rimanga un foglio sull'altro proprio perché per evitare questo peso di gravare i viti i vivi con questo peso ecco credo che questa idea della leggerezza siamo qui sulla terra ma bisogna non lasciare troppe tracce passare sulla terra leggeri bene queste parole io volevo rassicurare su un fatto che anche la rete ha una finitezza per cui non ci disperiamo grazie mille di tutto quanto ci ha esposto va bene a parte che una riflessione penso che emerga abbastanza e se queste queste possibilità invece che in qualche modo eliminare il tabù della morte non stiano riportando fortemente l'idea che per forza in qualche modo bisogna essere in vita e giustamente come diceva lei il problema dei riti che accompagnano un certo tipo di passaggio appunto nella trasformazione di qualcos'altro e nella cesura anche io ho scritto obbligo in maniera molto grande perché è necessario ed è necessario collettivamente anche perché poi una società un sistema culturale che tipo di memorie si porta dietro quindi questa è una riflessione ma non mi dilungo su questo invece la domanda da cui sono molto interessata è quella che riguarda l'ambito diciamo così dei veramente più giovani quindi bambini e così via perché giustamente come lei diceva nel momento in cui c'è quella capacità critica che è data da un tipo di esperienza da un tipo di vissuti da un tipo di letture confronti lavori ma nel momento in cui già siamo in un contesto in cui abbiamo studi di neuroscienze psicologici e così via che ci dicono che questo mondo dell'infanzia che si sta rapportando tantissimo con qualcosa che non è la relazione anche corporea di presenza e così via ma già di virtualità ecco come ci si che tipo di analisi sono state fatte su questo perché credo che lì forse ci sia un certo tipo di criticità in più o comunque ma come si quindi se poi mi devo rapportare alla morte rispetto a Cristo ma adesso quello che inizialmente le sto per dire è una cosa che è tutta da dimostrare quindi metto le mani avanti però c'è quello che stiamo notando che si sta notando negli ambiti formativi e che comunque le nuove generazioni stanno forse anche vedendo le generazioni precedenti incominciano ad avere un rapporto con almeno con i social media meno pressante rispetto alle generazioni per esempio la mia è passata proprio in mezzo e anche quella è subito dopo quindi c'è una specie di detox nel senso che sarebbe interessante vedere tra qualche anno quanto resta nelle nuove generazioni dell'impatto che invece c'è stato precedentemente però ripeto questo è un più un'impressione che sta nascendo e che è anche appunto tutta da dimostrare certamente l'aspetto più problematico perché al di là dei social comunque l'utilizzo degli strumenti mediati degli schermi sono notevoli le persone giovani forse le utilizzano molto di più nelle messaggistiche private in ambienti più separati e certo quello è un problema che su cui oggi ci si sta soffermando sul fatto di trovare l'equilibrio tra la presenza fisica e una presenza alternativa perché certamente la presenza alternativa a quella fisica può essere problematica a me è capitato spesso tenendo anche dei laboratori di culture cyborg di realtà aumentata mi è capitato spesso di studentesse studenti soprattutto studentesse ventenni quindi nell'arco 22 23 24 anni che mi dicono ma qual è il problema se io ho per esempio una relazione sessuale soltanto con una persona che vedo attraverso uno schermo quindi senza la presenza fisica e ammetto io ripeto io da persona che non ha alcun tipo di pregiudizio e non vuole cadere nella visione apocalittica delle tecnologie mi viene da dire beh nessuna se questa cosa ti fa star bene no però certo che c'è un problema perché è una tendenza quella oggi presente di una diminuzione del contatto fisico del fatto di aver paura di mettersi in gioco con i diversi sensi e la mediazione di uno schermo è ovvio che facilita tutto perché la mediazione toglie tutta una serie di imbarazzi e di situazioni che in fondo riguardano il nostro modo di essere quindi diciamo che il problema sta adesso visto che comunque è una cosa ancora una situazione quella che stiamo vivendo relativamente nuova nel senso che se confrontata con la storia dell'umanità è una situazione nuova il problema sta probabilmente nel riuscire a far sì che prevalga l'equilibrio tra quello che avviene attraverso lo schermo e quello che avviene invece in una dimensione di contatto diciamo che bisognerebbe riuscire a fare in modo che non ci sia l'alternativa ma ci sia un'integrazione quindi una persona può benissimo per fare l'esempio che ho fatto avere delle relazioni di natura sentimentale o sessuale mediate dagli schermi se anche riesce a sviluppare relazioni diciamo più classiche più tradizionali il problema sta nel evitare che ci sia l'alternativa e di ritrovarci poi un mondo in cui abbiamo paura del confronto e lasciamo che tutto venga mediato dallo schermo che ovviamente ci impegna ci toglie molta fatica e questo secondo me ecco chiudo con questa riflessione perché mi veniva in mente questo adesso forse questo la dice lunga su quanto abbiamo reso difficile il nostro modo di stare insieme nella società offline perché io forse trovo che queste sono delle soluzioni su delle enormi difficoltà relazionali che abbiamo e che è una colpa che ci riguarda tutti che riguarda il modo in cui abbiamo costruito le nostre società io mi mantengo tendenzialmente ottimista sono un umanista e figlio dei lumi per cui cioè a dire per quanto tutta una serie di aspetti veramente suggeriscano così la distopia e siano sconcertanti però noi ci dobbiamo pensare parlo dell'intelligenza artificiale che sostanzialmente l'intelligenza artificiale è basata sulle correlazioni e non sa affrontare la casualità pensateci bene perché questo è un un primato dell'umano che non appare per il momento assolutamente contendibile quindi anche nella riproduzione del 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 caro estinto va bene avrà una sarà sempre un'interazione basata su una ripetizione di quelle informazioni che sono state legate a precedenti filmati parole dette ma che non andranno mai oltre e non potranno superare il passato quindi se le persone anche le più deboli eccetera vengono accompagnate e diciamo accompagnate proprio nel senso che le si fa accompagnare questi diciamo passatempi lenitivi diventano dei passatempi innocenti che possiamo tollerare poi sui bambini e lì dobbiamo lavorare diciamo anche in maniera più forse più professionali file a un sito per l'elaborazione del lutto proprio dei bambini che a confronto di questi ultimi aspetti e anche comincia anche a essere un po' passatello va bene però che è un qualche cosa che è partito alcuni anni fa ma che è fondato anche sulla da una parte il mezzo moderno ma dall'altro anche delle figure di riferimento e le figure di riferimento per i bambini sono il genitore magari l'ha perso però ce ne sono altre figure ci sono gli altri parenti ci sono gli insegnanti quindi io credo che al di là di momenti di sbandamento queste possibilità ulteriori che ci vengono dal mondo digitale aumenteranno la qualità della nostra vita non saranno diciamo non ci porteranno fuori da quella che è la nostra umanità è chiaro però che la stiamo rinnovando ma credo che da quando siamo presenti su questo pianeta la stiamo rinnovando forse ora siamo un po' stressati perché il rinnovamento è più veloce però se non ci facciamo fuori rendendo inabitabile questo pianeta per il resto abbiamo delle discrete capacità di progredire e di riadattarci grazie a tutti Grazie a tutti